Ieri nel giorno del ricordo delle vittime del terrorismo a Parigi, centinaia di persone hanno preso parte alla marcia silenziosa che è stata organizzata a Gorizia del Comune. Mi hanno partecipato anche il presidente della provincia Gerghetta e vari sindaci dell'Isontino. Il corteo è partito dal municipio dopo aver fatto tappa in Piazza Vittoria e è giunto alla sinagoga di Via Ascoli. Vi proponiamo qualche immagine di questa marcia silenziosa accompagnata da una musica simbolo particolare per la Francia, Non Je ne regrette rien, di Edith Piaf. 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 Non Je ne regrette rien, di Edith Piaf.